14 novembre 1922 La British Broadcast Corporation inizia trasmissioni radiofoniche regolari Dieci anni più tardi approderà in via ancora sperimentale nel territorio della televisione La BBC è tuttora uno degli operatori televisivi più autorevoli del mondo Per tutti gli inglesi, che la conoscono da sempre, l'azienda è come una persona di famiglia e la chiamano semplicemente auntie, zia